Bene amici di HDblog, questa è una ripresa in Ultra HD dall'LG G3. Questo è il solito sbarco dell'ascensore che conduce qui al mio ufficio. Faremo il percorso inverso di quello che facciamo di solito, quindi andremo in giù, porte che si chiudono e adesso la classica attesa dell'ascensore lentissimo. Guardiamo come riprende qua alle luci basse dell'ascensore, dotata di stabilizzatore ottico, questo ve l'avevo già detto nella ripresa in Full HD. Devo dire che si scalda un filo la parte posteriore mentre gira in video in Ultra HD, adesso aspettiamo che si apra la porta, siamo quasi arrivati, non ci sarà tantissima luce ma comunque più luce di quella che c'è qui nella cabina ascensore, eccoci qui, questo è l'adattamento, usciamo dall'ascensore, solito giro alle caselle della posta che ovviamente erano un po' contro luce, questo è il favore di luce e adesso siamo pronti a uscire per fare un po' di test sulla via. Già che mi trovo vicino a questa pianta provo a fare una macro e mi sposto velocemente per vedere com'è l'adattamento al fuoco che mi sembra buono. Ora, che sono qua fuori, proviamo a vedere lo zoom sulla porta, eccoci qua, zoom sulla porta, massimo 8x, torniamo indietro, ok, e adesso proviamo il pan veloce, che però proverai su questo lato perché dall'altra parte sono un po' troppi chiariscuro quindi è un po' difficile per il telefono interpretare la corretta esposizione. Ecco il pan veloce, torno qua sulla pavimentazione e poi chiudo con la fontana. Ripeto, video girato in Ultra HD da LG G3.